Non riesce il Trissal Pescara che anzi rischia di cadere in casa al cospetto di una motivata vispesaro. La rete del 2-2 di Cancellotti nel finale evita il K.O. in una partita che si è rivelata più complicata del previsto per i biancazzurri. Autori conferma con il 3-4-3 per 10 undicesimi la squadra di Carrara con Rasi unica novità rispetto a domenica scorsa. Assenti lo squalificato Nzita e gli infortunati Chiarella, Ilianes e Bocic. Marchigiani senza l'attaccante Tonso, Biancorossi con il 3-5-2, Caldo all'Adriatico Giovanni Cornacchia dove si gioca di fronte a 3.500 spettatori. Al secondo minuto pronti via e Delfino in vantaggio con De Marchi che innesca Clemenza che in sospetta posizione di fuorigioco in area. Supera Farroni per il gol dell'1-0. Proteste ospiti ma Frascaro di Firenze convalida la rete. Gara che sembra mettersi subito in discesa per i biancazzurri che rischiano però già al quarto minuto quando Rossi prende la mira dai 25 metri chiamando il portiere del Pescara Di Gennaro alla parata in angolo. La squadra di casa continua però ad attaccare. Al quattordicesimo ci prova Rasi di testa che sfiora il palo con Farroni che sembrava battuto. Al ventinovesimo però dopo inutili affondi la Vispesaro ha una clamorosa occasione per pareggiare ma Cannavò di testa a tu per tu con Di Gennaro trova il miracolo del portiere del Pescara. Al trentaduesimo però arriva il pareggio ospite con Memusciai che va a commettere fallo in area di rigore su Saccani. Penalti che appare piuttosto netto e che Cannavò realizza di potenza per il gol dell'1-1. Tutto da rifare così per i biancazzurri come è accaduto con Ancona Matelica e Carrarese. La squadra di Oteri ora in leggera difficoltà ma che al quarantesimo ha un guizzo con Memusciai che su punizione colpisce il palo sul capovolgimento di fronte. Però Cannavò sfiora il 2-1 con Di Gennaro che salva ancora. Squadra ospite più che mai in partita e che risponde colpo su colpo al Pescara. Nella ripresa si riparte senza sostituzioni e con il Pescara in vantaggio al secondo dopo un contropiede finalizzato da Dulzi. Il gol regolare viene però annullato dal direttore di gara su segnalazione del primo assistente. Grandi le proteste dei biancazzurri ma la rete non viene convalidata. Ile Pescara nervoso riprende a premere ma in maniera disordinata. Auteri dalla panchina pungola i suoi ragazzi. Al sedicesimo passa al 4-3-3 mandando in campo Marilungo, Rizzo in grosso per Clemenza, Zappella e Rasi. Al diciottesimo si rendono pericolosi i padroni di casa con un tiro a giro di Dursi che sfiora il palo. La gara resta però complicata con una vis sempre sul pezzo. Al ventitresimo Dursi ancora lui si divora il gol del 2-1 mettendo clamorosamente a lato a due passi da Farroni dopo un bell'assist di Marilungo. La vis che però al ventottesimo passa in vantaggio con Rubin che dopo una respinta corta della difesa abruzzese trova un euro-goal superando Di Gennaro. Per il Pescara sembra nottefonda anche perché al di là del gol annullato a Dursi la formazione incontra difficoltà. Al trentaduesimo tocca a Galano che prende il posto di Menusciai in un finale di partita che al trentatresimo vede l'espulsione di Cannavò per gli ospiti per doppio giallo. Biancazzurri così all'assalto nel finale con tanto disordine ma con il gol del 2-2 che arriva al quarantunesimo con Cancellotti che di testa su angolo di Pompetti. Mette il pallone in rete con la superiorità numerica. Gli abruzzesi ora attaccano con Galano pericoloso al quarantaquattresimo prima del recupero che vede il Pescara ancora pericolosissimo. Con Ferrari che prima si vede annullare la rete e poi trova la parata di Farroni a pochi secondi dal termine. Finisce 2-2 con tante recriminazioni ma anche qualche riflessione in casa Pescara.